Ciao ragazzi, sono Alcari Nammer e benvenuti in questa nuova monografia Tireless di Dario Argento che ho portato qua sul canale Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Sergio Leone, eccetera, altre Andrew Niccol, quindi andateci, c'è una playlist proprio su questo Non mi mostro perché ho provato, è la linea usando Streamyard, quindi la sola registrazione non viene bene, non si vede un cazzo, e quindi non ha senso, non ha senso perché l'audio sarebbe stato buono, ma non ha senso quindi com'è questa Tireless, monografia, soggettiva e oggettiva cercherò di essere più oggettivo possibile spiegando dove sono soggettivo con le solite 5 categorie ormai, lo sapete, sono 6, lo stronzo io cioè super, vuol dire che è un capolavoro, top, grande film, ok, fin nella media me, un po' ni, ni, 5, 5,5, che spreco, brutto film, davvero brutto film sul 3,5 e No Sands 2, quei film terrificanti per cui non dovrebbero neanche esistere in realtà prima di andare avanti però vi voglio parlare un po' di Dario Argento e di quello che è il suo cinema, almeno per me, quali sono i punti di forza molto in breve e quali sono i punti deboli i punti di forza è sicuramente il lato estrettamente visivo sì, della metà della carriera di Argento perché è chiaro che qua c'è un problema da trattare subito all'inizio ovvero che sui 20 film che ho citato, ovvero 19, più ti piace Hitchcock non ho preso gli episodi dei mediometraggi delle serie quindi 20, almeno più della metà sono insufficienti quindi vuol dire che si passa da un grande Dario Argento a uno un po' meno bravo, molto meno bravo questo è un problema e si collega al primo difetto che ha Dario Argento il che non lo rende versatile perché ha il suo stile, lo vuole riproporre in continuazione senza mai variare ci ha provato talvolta, ma è sempre la stessa storia ovvero c'è un assassino folle, pazzo che ha problemi psichici anche legato a delle medicine, eccetera che uccide le donne, della maggior parte anche uomini in realtà, ma donne soprattutto e che c'è una sorta di giallo dove il primo che capita che è il protagonista, che non è un detective deve andare sulle sue taracce per cui molte volte è coinvolto nelle vicende dell'assassino stesso perché è legato a qualche livello per cui è quella roba lì sappiamo tanto gore, tanto sangue, scene, insoggettiva ecco Argento non si sa rinnovare è il suo più grande difetto perché non riesce a dare qualcosa di nuovo alla storia non è un... supponiamo che cosa mi viene in mente anche Tarantino si è rinnovato un po' Nolan ha cercato di cambiare genere lui proprio è de legno ecco, l'altro problema è il casting degli attori molto grave perché per la maggior parte nel più del 80% dei casi i suoi attori non sono all'altezza talvolta che hanno anche dei bravi attori Edo Germano, Santa Maria, Max von Sydow nomi importanti però per la maggior parte sembrano sempre fuori personaggio non hanno un grande background e spesso sono cagnacci pazzeschi pensiamo ad Asia Argento che è la figlia del regista e che recita in 7, 8, 9, 10 film inaccettabile perché non è un'attrice e per la maggior parte le comparse sono belle ragazze ma che non sanno recitare magari modelle no, ecco Argento ha un problema che se nei primi film riesci anche a passarci sopra perché io lo dico sempre in Profondo Rosso il protagonista non è bravissimo però il film è talmente bello che ci passi sopra diciamo che in Suspiria si è fatto un buon lavoro è proprio il film che non mi sento di criticare negativamente su questo ma se la qualità visiva scende tu vedi che il cane è l'attore ecco, quindi non funziona molto bene vediamo, altre cose che mi sono segnato ha degli spunti geniali sicuramente Argento il suo punto di forza è mettere in discussione quello che è il nostro vedere il nostro sentire i nostri sensi sono fallaci quindi recupera anche la filosofia cara del 1500 del 1400 dove si diceva proprio facciamo attenzione a quello che giudichiamo oggettivo e soggettivo senza spoiler questo è molto molto interessante si lega agli animali che diventano simbolo di orrore e anche riferimenti per i serial killer va bene e poi un'altra cosa Argento non tanto con il gore ma con la tecnologia la CGI su tutti e anche il fuoricampo cos'è il fuoricampo nel cinema? in M il mostro di Dussendorf vediamo un palloncino che vola via su un'ombra proiettata su un muro ecco, quello è il simbolo della violenza su una bambina il fuoricampo la potenza del fuoricampo Argento più va avanti nei suoi film e meno usa il fuoricampo quindi deve mostrare tutto quello che succede quindi lo supponiamo uno prende una medicina senza fare riferimento al film e vediamo questa pillola che cade dentro l'organismo di chi l'ha presa ed è davvero fatta in CGI male ma non ha senso quella scena perché non ci da non ci crea più angoscia rispetto a prima no, quindi Argento con gli anni ha voluto palesare tutto in CGI che era brutta brutta in maniera inutile secondo me quindi ha perso anche la maggiore il fuoricampo che prima era fondamentale pensiamo a Sospiri a profondo rosso pensiamo ai primi film era fondamentale senza fuoricampo risulti ridicolo l'orrore risulta ridicolo soprattutto se hai una brutta CGI ora, mi ha fatto una lunga introduzione ma adesso incominciamo io direi di partire dall'alto dai perché è più interessante i brutti film perché ve lo dico subito su 20 1, 2, 3, 4 5, 6 7 o 6 o 7 sono sufficienti gli altri 13 insufficienti quindi non so neanche come valutare Argento perché quando è al top è davvero bravo quando non è al top è davvero penoso quindi va bene cominciamo con la prima categoria super dove c'è un solo film Suspiria il migliore film di Dario Argento è Suspiria perché ve lo spiego subito ve lo dimostro subito Argento è uno dei pochi che è diventato simbolo dell'Italia ed è stato omaggiato da grandi registi internazionali ha creato ha rivoluzionato quasi un genere che è fra lo slasher già l'horror ora Suspiria è qualcosa in più però perché qua ha toccato davvero dopo la lezione di Bava certamente e dell'espressionismo è chiaro che in Suspiria si tocchi la filosofia dell'orrore l'angoscia non tanto di un tale che ti insegue con un coltello per quanto possa far paura ma della dell'entrarti nella mente le streghe e in Suspiria abbiamo il trionfo della tecnica un film quasi perfetto a mio parere nella storia del cinema quindi non parlo solo del cinema italiano o della sua filmografia capolavoro che fa della scenografia della musica della fotografia e anche dei visi dell'attegico non sono fenomenali ma sono in parte un unico blocco quindi tu non sai distinguere in Suspiria qual è l'approccio e l'apporto della fotografia rispetto alla regia rispetto agli scenari è una una mostra di di tecnica incredibile Suspiria è davvero la perfezione o quasi diciamo che il finale essendo una favola mi ha un po' deluso perché alla fine questa strega potentissima e poi non dico altro viene sconfitta in maniera un po' facilona però come si ci arriva lì è incredibile Suspiria è capolavoro ed è l'unico perché in top abbiamo quanti uno due tre no due soli film secondo posto e primo in questa categoria l'uccello dalle piume di cristallo che supera profondo rosso che avete visto nelle slide ora qui si va un po' sul soggettivo perché oggettivamente profondo rosso ha qualcosa in più rispetto all'uccello dalle piume di cristallo però devo dire che quest'ultimo l'uccello dalle piume di cristallo secondo me soggettivamente e anche emotivamente ha qualcosa in più perché fa un discorso sulla frammentarietà della visione e anche opera prima ricordiamocelo dove quello che vediamo non è vero però i nostri ricordi offuscano la nostra comprensione quindi la nostra intelligenza è risultare più freddi possibili per recuperare quell'attimo che ci siamo persi chi ha visto il film sa è un film stratosferico con una trama bellissima anche il movente dell'assassino funziona dannatamente bene come tutti i primi film di Argento e c'è una critica forte alla coppia borghese perché non ve lo dico dove marito e moglie hanno un problema che non si risolve mi piace molto mi piace questo protagonista che qua è ancora ossessionato dall'Ibris cioè c'è la tipica dinamica per cui lui dovrebbe fuggire da quel posto ma non lo fa da Roma e non lo fa questo è il primo della trilogia degli animali secondo me il migliore ma è un film mone pazzesco che davvero mi ha lasciato senza senza fiato l'emozione che mi dà anche la messa in scena è fresco originale il Dario Argento che davvero mi piace è un top non è un capolavoro non è da non è da super ma poco ci manca terzo posto per Profondo Rosso come detto oggettivamente forse è da è da secondo ma io lo metto terzo per poca distanza tecnicamente è spaventoso è forse uno dei pochi film che mi fa paura perché io non l'ho detto ma gli horror non mi hanno mai colpito non tremo mai davanti a quei presunte presunte scene inquietanti dell'esorcista così no Profondo Rosso è un è un qualcosa che che ti scava dentro l'angoscia fino alla prima scena che sapete bene che si ricollega con la fine c'è l'idea del dipinto che ti entra dentro e che ti ostacola il sonno il senno in Profondo Rosso c'è una scenografia una regia pazzesca però abbiamo due piccoli difetti secondo me due piccoli difettini qua gli attori a differenza dell'Uccello dalle pioni di cristallo dove si l'attore principale non è un fenomeno però tutto sommato a fare quello un po' americano sopra le righe ci può stare qua in Profondo Rosso gli attori non sono tutti bravissimi non tutti c'è Dara Nicolodi fantastica poi c'è un certo personaggio femminile fantastico anche l'amico anche lui bravo però non tutti gli attori sono all'altezza come il protagonista che ha molto spazio nel film quindi c'è un problema se vogliamo ma che va in secondo luogo sicuramente è meno rilevante quando la tecnica è così forte mentre ho trovato fuori luogo l'ironia si vuole giocare un po' sulla commedia dei sessi a un certo momento mi piace quello spunto ma è troppo sopra le righe in un momento in cui c'è un assassino che sta uccidendo io non fare tutte quelle battutine sì anche se Amraimi lo fa in un certo senso però Argento non è Raimi sicuramente e quindi secondo me non non ci voleva il finale vabbè da brividi slasher scene di gore meravigliose quindi andiamo nella parte ok con 4 film avete visto la classifica nelle slide quindi primo posto nella categoria ok e quarto in quella generale abbiamo Opera un film che ho adorato è relativamente un argento che ha superato gli anni d'oro che per me da metà degli anni 80 dopo va in crisi Opera è uno dei pochi film secondo me post 84 85 dove lui è davvero davvero bravo è un film che emotivamente mi ha distrutto mi ha colpito perché io non sono solito a empatizzare con la protagonista donna dai grandi ideali invece lei qua ha una storia emozionante vibrante che si lega con quella dell'assassino questo assassino in una location che Argento sa usare bene come vediamo anche nel Fantasma dell'Opera che è un film certamente più modesto ma che a livello scenografico vince secondo me Opera da qui c'è un mondo con questo teatro con questi sedili con questi colori forti che ricordano il rosso sangue Opera è davvero un bel film a mio parere sottovalutato con un bel movente dell'assassino ben costruito il rapporto fra l'assassino e lei dove c'è della crudeltà psicologica che raramente si vede in argento dove c'è un accanimento quasi e poi capiamo anche il perché ci sia questo accanimento il fatto di far vedere alla protagonista quello che succede forzatamente non vi dico come è un tocco mica male che si ricollega tutta una storia che non dirò qui mi piace il fatto che l'assassino è fallace ma perché la fa scappare per riprenderla ecco non è l'idea ah lei si è liberata quindi quindi bellissimo Opera certo è un non è un argento minore ma non ha quella potenza tecnica visiva che possono avere i primi tre che ho citato quinto posto per inferno per alcuni uno dei più belli che è la seconda parte della trilogia delle madri iniziata con Suspiria ora perché lo metto solo quinto perché sono il primo a dire che tecnicamente sarebbe da primi tre secondo solo a Suspiria probabilmente e vi dirò anche che per gli spunti che ha è anche più interessante di Suspiria a livello di storia perché si va a scavare nella mitologia ma non vi dirò altro scusate perché ho dedicato un video proprio sulla trilogia delle madri quindi ho parlato un po' di Suspiria perché in quel video non l'avevo fatto ma vi vinco qui in alto o cercate voi stesso la trilogia delle madri signora Arkadin Hammer Arkadin Hammer cercate che c'è un video che parlerà anche delle tre madri quindi è un film che tecnicamente è uno dei più belli che però ha dei problemi scoprite perché in quel video Sesto posto Gatto con le nove code alle nove code non mi ricordo come sono queste nove code comunque film secondo della trilogia degli animali che parla del gatto no scherzo è un riferimento chiaro ha una idea che c'è nel film l'ho trovato molto bello davvero molto interessante l'assassino qui è davvero interessante davvero sfaccettato ma il film non lo approfondisce troppo solo un monologo finale ecco non si poteva fare di più anche la regia e il lato gore c'è però l'ho trovato un po' pigro nel senso che si poteva fare di più ho avuto l'idea guardando questo film che si potesse fare di più l'idea è un po' è un po' questa quindi spesso si sacrifica la psicologia dell'assassino quindi l'angoscia che c'era in profondo rosso e nei primi che ho citato per la spettacolarizzazione quindi qua è più slasher che horror che giallo ecco mi ha dato un po' fastidio però siamo in categoria ok quindi è comunque un buon film ecco vogliamo dire così settimo posto tenebre ecco tenebre argento ha cercato di fare un discorso differente lo capisco lo comprendo ma questo non vuol dire che di conseguenza debba essere migliore di altri perché il killer è anche interessante è diverso dal solito diciamo che il discorso non viene approfondito troppo stesso problema che avevamo con il gatto alle nove code forse c'è una eccessiva sessualizzazione secondo me perché è vero argento ne fa un motivo di vanto sangue e belle donne sono elemento fondamentale però talvolta si esagera soprattutto se non c'è un legame diretto con la trama un'ottima messa in scena funziona funziona bene si lascia guardare però talvolta qua ci sono le prime avvisaglie di un po' di trash un po' di cringe talvolta ecco non mi ha convinto completamente e quindi abbiamo finito gli ok andiamo in categoria me con quanti uno due tre cinque film primo dei me a mio dispiacere immenso ottavo posto la sindrome di Stendhal perché è uno dei miei film preferiti soggettivamente del maestro dell'horror perché mi ha colpito da morire mi ha colpito da morire Asia Argento qui è forse il miglior ruolo in carriera con questa storia davvero particolare perché sembra la solita abbiamo questo serial killer che stupra le donne poi le uccide però qua c'è già un colpo di scena che non svederò fin dall'inizio per cui non è la solita trama ecco la sindrome di Stendhal parla della bellezza dell'arte che ti sconvolge ma questo concetto viene ampliato alla violenza lo so che è così sembra stanno da dire ma non voglio farvi spoiler la violenza il sangue può essere al pari dell'arte un modo per pensarti dentro la mente e far esplodere tutte le le tue certezze mi piace molto ora lato tecnico non è sempre all'altezza soprattutto della parte narrativa che mi è piaciuta molto la sceneggiatura di questo film spiace tanto perché gli attori non sono bravissimi e qua si sente perché se la storia è ottima la regia se la cavicchia con i luoghi naturali i nostri diciamo angoli più apprezzati d'Italia con le cascate e tutto siamo anche a Firenze quindi c'è anche un riferimento culturale forte italiano se poi gli attori non sono all'altezza ecco un po' dispiace il secondo tempo è da brividi fantastico straordinario il primo fa il suo però si poteva far di più ecco mi ha dato fastidio perché questa è una delle idee più creative più profonde del cinema argentiano però non sempre reso in modo eccezionale non ho posto le 5 giornate di Milano unico film di argento che non sia un thriller horror slasher parla delle 5 giornate di Milano con Adriano Cialentano e in realtà è un road movie che vuole fare una della critica sociale e ti mostra l'Italia come sconfitta da ogni parte sia dai partigiani e sì scusate sia da da chi fa partire la rivoluzione da chi la vuole sanare e sono tutti colpevoli allo stesso modo quindi non c'è una reale come posso dire un parteggiare per qualcuno lo sguardo smarrito e l'ultima scena di Adriano Cialentano ti mostra la violenza di questa Italia che sta nascendo ora questa critica però non è abbastanza interessante nonostante un lato tecnico decente dignitoso si vede che non è il suo campo affatto qua il compitino il nostro argento gli è riuscito per carità però non possiamo dire che sia brillante ecco il risultato decimo posto per Fenomena il film con Jennifer Connelly giovanissima uno dei preferiti dal maestro posso dire che non ha convinto almeno per quanto mi riguarda come altri che amano questo film e ci mancherebbe perché in effetti ha delle belle idee cerca di narrarti la solita storia dell'assassino eccetera eccetera però qua ci sono due elementi nuovi il primo legato al fatto che la visione che è frammentaria perché questa protagonista soffre di sonnambulismo per cui ha visto qualcosa che non ricorda e ci ricolleghiamo ad altre opere dall'alto ci sono questi animali perché è una sorta di film sugli animali anche se è esterno alla trilogia dove c'è un rapporto molto forte che secondo me è più approfondito che che ne so nel gatto delle nove code a nove code oppure l'altro quattro mosche di veluto grigio più senso secondo me come trilogia degli animali questo che l'altro belle le musiche funzionano mi pare fosse morricone non voglio sbagliarmi però la narrazione ha dei toni discontinui che non mi hanno convinto perché si narrano delle storie inizialmente che non vengono poi chiuse l'assassino non è così affascinante quando scopri la sua identità ci sono delle scene un po' trash un po' cringe dove talvolta Argento esagera e vuole mostrarti proprio tutto e magari non sarebbe stato il caso quindi tutto sommato è un film che non posso condannare ma non posso neanche troppo promuovere andiamo avanti proprio quattro mosche di veluto grigio forse il più debole tra i film della trilogia degli animali che è un buon film per carità è uno dei primi però ho trovato la storia un po' pigra non mi ha convinto tantissimo c'è l'assassino uccide la regia è abbastanza buona è scuro c'è tutto scuro insomma c'è la tipica il tipico uso coloristico dei film di argento però non mi ha colpito c'è pure bar spencer va bene l'ultima scena finale non mi è rimasta in mente per niente è una mezza delusione nel senso che si poteva far di più onestamente e quindi chiudiamola non sta a me no non ho scordato c'è l'ultimo posto ovvero dodicesimo la terza ma cioè che non vi dico troppo perché vi linko sempre il video di prima sulla trilogia del dematico portato sul canale quindi andiamo in che spreco qua arrivano le batoste forti forti benvenuti in questa categoria dove sono tutti gli altri film perché non ho messo nessuno in no sense anche se gli ultimi due probabilmente ci potrebbero andare però c'è sempre qualcosa che salvo ora questi sono film brutti del maestro brutti qui non è più maestro secondo me sono davvero fatti male e il problema di Argento è che sembra copiarsi da solo sembra un tale che ama il cinema di Argento che vorrebbe fare il suo cinema ma siccome è incapace ne fa una brutta copia peccato che questa persona sia Argento stessa si è perso non si è saputo rinnovare come ho detto all'inizio e questo è il risultato tercesimo posto il fantasma dell'opera ora l'idea non è male devo essere sincero è secondo me lo spreco maggiore di tutta la sua carriera l'idea non è male parla di arte parla dell'ingenuità parla dell'amore parla anche dell'Eros parla degli esclusi anche la messa in scena non è malissimo è quasi un me secondo me questo film però però ci sono dei limiti enormi le scene sì Gore possono anche funzionare ma si sente che non è il campo di battaglia del nostro Argento qua Asia è indecente abbastanza indecente secondo me non non riusciamo a empatizzare con lei anche il il fantasma dell'opera è un personaggio che sulla carta dovrebbe essere affascinante ecco mi è piaciuto molto dove vive il fantasma qua c'è l'opera quindi di nuovo un minimo di bellezza visiva c'è perché lui sa sfruttare questo luogo però la narrazione è insufficiente insomma anche a livello logistico narrativo questo vive nel teatro nessuno lo scopre per 40 anni 50 anni vogliono creare anche una mitologia di Ezio perché si si raccontano leggende miti su di lui no no ecco diciamo molto semplice quattordicesimo trauma che è il remake di profondo rosso americano era talmente apprezzato dall'argento che è stato chiamato poi in America ecco qua lui voleva i goblin per le loro musiche però anche questo ci dice qual è il problema del film che è un film senza cuore è un film fatto per gli americani un argento a misura di cinema americano non funziona è troppo sofisticata talvolta l'ha messa in scena invece mi è mancato molto la soggettiva tutte quelle tecniche di argento qua sono minimizzate non non mi ha colpito ci sono c'è questa torbidezza del morale però non lo so mi è sembrato il compitino fatto per gli americani non c'è cuore in questo film ma non è il peggiore sicuramente quindicesimo non ho sonno che fra i film monnezza perché sono film monnezza da qui in poi qui c'è un minimo di idea diversa non tanto c'è il solito assassino che poi si scopre nel passato quella solita solita cosa però diciamo che il trucco dell'asma mi piace molto molto peccato che sia l'unico spunto interessante quando hai una una messa in scena da galera da galera attori da galera il lato tecnico non funziona non funziona niente niente davvero un film filmetto brutto che sul finale si riprende un po' poi c'è una cosa sul finale perché chi risolve la situazione è un tale che spara spara alla persona giusta e chiaramente all'assassino lo posso dire ma come faceva a sapere che quello fosse l'assassino è andato a intuizione e se beccava uno degli altri due che cosa facevano no no su tutta la linea sedicesimo il cartaio qui lo metto qua e non più in basso perché ho scoperto che il finale è stato tagliato diversificato perché lui voleva che un'altra persona fosse l'assassino e quindi ha dovuto ora il nuovo assassino quello che c'è nel film è talmente banale che lo si scopre a scena uno o due tre quello che è il giallo è prevedibile banale qualità scadente rai fiction brutta c'è la rocca che non sa recitare e infatti faceva le fiction c'è santa maria sprecatissimo il film in realtà ha un'idea buona ce l'ha che è quella del video poker ecco almeno visivamente ha cercato di rinnovarsi collegandosi perché è del 2004 collegando mi pare 2001 2002 quello che è si è collegato alla contemporaneità quindi un minimo coinvolgendo la polizia quindi si è cambiato modello però il film è brutto come la fame quindi no 17esimo giallo ne hanno parlato per anni come il peggio del peggio in realtà c'è altro che fa più schifo sicuramente è un film brutta brutta bruttissima copia del vecchio argento ad un brody no ad un brody non esiste in questo film motivazione del killer forse interessante ma non sviluppata quindi non pervenuto non pervenuto minimamente questo filmetto davvero imbarazzante che già ha segnato ma anche da tempo prima la fine del cinema di argento 18esimo non riesco a leggerlo uuuu occhiali neri ultimo film di cui non mi dico niente perché c'è la recensione sul canale perché l'ho visto proprio in questo 2021 film de merda senza precedenti lenia pastorelli bella fisicamente sessualmente quanto incapace a recitare con una di argento ai minimi storici 19esimo ora qua c'è due sono rimasti avete capito quello che pensate voi è ti piace Hitchcock che metto 19esimo anche se sarebbe da 20esimo perché lo voglio scusare è una produzione televisiva è giocermano che non sa recitare non so come sia possibile lo voglio scusare per il budget davvero basso ecco in ti piace Hitchcock io penso che si noti la caduta del maestro qua ormai siamo i minimi storici perché tu dici aspetta ma questo è un film fatto da un ragazzino di 18 anni che amava il cinema di argento e ne vuole fare una copia in mezzo c'è la c'è la finestra sul cortile un po' in mezzo buttata a caso no in realtà è argento stesso che umilia il suo cinema con questo film che è di una bassezza è stupido è noioso triste tu lo vedi perché guardi i suspiri e poi guardi ti piace Hitchcock e pensi no non può essere la stessa persona ed è la stessa persona ventesimo lui il film di cui anche questo mi hanno parlato che faceva schifo Dracula 3D Dracula 3D è davvero una monnezza senza precedenti ma io pensavo peggio da come me ne parlavano perché? facciamo un attimo un minimo di discorso su Dracula 3D in realtà la trama è quella dei film di Herzog è quella di Nosferatu è quella roba lì quindi la zama di per sé anche se argento si ci mette per renderla più stupida possibile però tutto sommato è la parte meno indecente la trama ok poi andiamo sulla CGI ci arriviamo dopo ma non è qui il problema credo che il montaggio di questo film sia davvero schizofrenico non ci permette di godere di nessuna situazione fin dall'inizio perché è tutto troppo veloce non riusciamo a conoscere bene i personaggi in gioco Argento mette delle modifiche aggiunge personaggi solo per sessualizzarli senza dargli il background perché se altre volte gli era riuscito il giochino qua no qua non gli riesce più e diventa quasi un soft porn legato a una parodia di un film horror perché gli scenari e tutta la CGI ma soprattutto gli scenari appaiono finti artificiosi ora non so se sia vero ma tu l'aspettatore pensi no quella roba non è vera non sta succedendo realmente è fatta in studio e questo non dovrebbe mai succedere perché è vero che c'è l'effetto 3d e tutto e stai senza occhialini ma è brutto da far schifo è brutto da far schifo poi oltre ai cliché andiamo un attimo per meno c'è un attimo sulla scena cult il nostro dacula che diventa come si chiamava quell'animale lì io là mi si è raggelato il sangue come in sospiria e in profondo rosso però qua all'opposto ho detto oh mio dio l'ho visto non lo so tre settimane fa ho gli incubi è di una bruttezza più unica che rara allora io mi chiedo ma Argento l'ha vista il montaggio e l'ha tenuto io non lo so cosa devo devo pensare poi sono stereotipi su stereotipi la prima scena diciamo dove c'è l'atto sessuale e anche la parte successiva è di una banalità imbarazzante non non riesco a trovare tranne la storia di base che sembra filare abbastanza motivi per per non dire che sia uno dei dei peggiori film della storia che non è secondo me perché non è neanche Innocence Innocence sono quelli da 0.5 su Letterbox questo è da una stella quindi vuol dire che qualcosa almeno ma quello che fa più male secondo me a molti giustamente che sia un film di l'argento l'avesse fatto Marco De Marquis video videoclipparo dici il cazzo che ci frega ci vediamo sopra ma lo fa da l'argento e fa un male terribile quindi io chiudo qui e vi chiedo dopo che ho messo il riassunto delle posizioni quindi la vostra classifica vabbè non dico tutte e 20 però ditemi quelli che vi sono piaciuti di più e di meno ciao ciao ciao